Tutto inizia nel lontano febbraio 2004. Il Ministero della Difesa fa sapere all'amministrazione comunale di Roseto l'avvio attività di una torre antenna di 40 metri di altezza sopra la collina di Monte Pagano. Una comunicazione che da quel giorno portò una non quantificabile sequenza di manifestazioni di protesta da parte di comitati cittadini opposizione, fin quando la Giunta decise di fare ricorso al Tar con una perizia geologica che metteva in evidenza i danni che il traliccio avrebbe apportato alla stabilità della collina. I lavori di costruzione furono interrotti dopo pochi mesi, 25 metri anziché 40, e poi l'opera fu abbandonata senza mai completarla nel renderla utilizzabile. Dopo 11 anni l'amministrazione del sindaco Pavone è riuscita ad ottenere il permesso di smantellare la costruzione e di farlo a costo zero. Grazie al lavoro fatto in questi anni, alla collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, che io voglio ringraziare, e alla sensibilità anche del Consiglio di Quartiere di Monte Pagano e del suo Presidente, Liberatore Merlitti, noi abbiamo come amministrazione, ci siamo impegnati con il Consiglio di Quartiere a fare in modo di togliere quel traliccio. Quindi abbiamo avuto dall'Arma dei Carabinieri l'autorizzazione a poterlo fare, e poi c'era il problema economico, nel senso che togliere quel traliccio ha un costo e questo è stato superato anche grazie sempre alla disponibilità dell'Arma dei Carabinieri che ha concesso a chi sarà la ditta esecutrice dei lavori la possibilità di avere in cambio il ferro che fa parte di tutto quel ferro che costituisce il traliccio. Un bando che sarà pubblicato tra qualche giorno e che renderà possibile l'opera a costo zero per il Comune di Roseto. Si estima un lavoro di 30.000 euro totali e così l'idea è quella di cedere tutto il ferro adoperato per la costruzione alla ditta appaltante, che a sua volta potrà trasformarlo, riutilizzarlo o semplicemente venderlo. Gli uffici stanno già predisponendo il bando, l'avviso con cui verranno invitate le imprese. Ci sarà qualche giorno per poter presentare le offerte, la Commissione le valuterà e quindi ci sarà l'aggiudicatario. È chiaro che sarà necessario avere una serie di requisiti consoni rispetto allo smontaggio dell'antenna, c'è bisogno di versare le cauzioni, l'assicurazione e quant'altro, quindi tutti gli accorgimenti tecnici necessari per produrre il lavoro nella massima sicurezza visto che è un'opera importante e bisogna garantire la massima sicurezza.